Sì, e questi si aggiungono al bando di 5 milioni di euro che è stato pubblicato lo scorso anno e per il quale sono già state assegnate le risorse a premio della progettualità che è stata presentata da Comuni e Provinci. Questa è la dimostrazione di come la Regione Toscana sia particolarmente attenta ai temi della sicurezza stradale che sappiamo attenere ed essere conseguente a diversi fattori. Sicuramente gli stili di vita, sicuramente la cultura del rispetto delle regole, ma anche la qualità e l'adeguatezza delle infrastrutture. Ecco che con questi interventi noi andiamo a migliorare intervenendo in alcuni punti critici delle strade regionali e lo facciamo ovviamente con la collaborazione dei Comuni e delle province che hanno competenza su quei territori.